Che relazione c'è tra i narcisisti e i manipolatori perversi e il successo, i soldi e le donne? Sono Paola Fendoni e sono qui per mettervi in guardia e aiutarvi a difendervi dai partner narcisisti, sia che siano uomini o siano donne. Ti invito a unirti alla nostra comunità e a contattarmi se hai bisogno di condividere la tua esperienza oppure per un consulto privato scrivendo a paolafendi.com. Oggi inizio questo video parlandoti di chi sono le donne indimenticabili nella vita di un narcisista maligno perverso. Magari ti sembrerà da non credere ma le donne indimenticabili per un narcisista sono proprio coloro che non l'hanno voluto e che non è riuscito a conquistare. Una campagna di vita e di battaglia è troppo alla mano per essere all'altezza delle donne capaci di rifiutare i suoi doni di essere maligno. Le donne ritenute dagli altri le migliori che abbia mai avuto non sono considerate le migliori da lui, anzi sono ritenute poco intelligenti per avergli creduto. Ecco perché il narcisista manipolatore maligno infiarisce ancora di più sulle donne che gli credono perché credono al ruolo che lui ha deciso di rappresentare in quel momento. I narcisisti perversi essendo bugiardi patologici amano essere creduti, tuttavia quando ciò accade le persone diventano automaticamente indegne del loro rispetto perché ritenute poco sveglie. Quando ci dedichiamo a questo tema impariamo a osservare meglio le dinamiche relazionali. Molte narcisisti manipolatori fanno uso del denaro come parte della seduzione perché nella loro testa i soldi sono necessari per ostentare la sicurezza che tanto piace alle donne. Appartiene alla strategia di conquista della donna far buona impressione sfoggiando una situazione finanziaria oppure uno status fuori dalla loro realtà soprattutto quando non sono in una condizione economica favorevole oppure quando non hanno avuto lo spiccato riconoscimento della loro professione o della posizione sociale desiderata. I narcisisti perversi maligni evadono ostentando ciò che non possiedono, non sono e non fanno. Sto parlando di esseri che non misurano gli sforzi per sostenere un'immagine di prosperità e di successo anche con enormi difficoltà. Alcuni amano regalare qualcosa alle donne che vogliono conquistare, altri si dimostrano veri immaterialisti anche se inizialmente erano la generosità fatta in persona. L'importanza che danno ai soldi è intrinseca nella loro personalità. I soggetti narcisisti maligni manipolatori sembrano trovarsi in posizioni professionalmente elevate grazie alla loro dedizione e talento ma buona parte di loro presto passa dalle stelle alle stalle. Tendenzialmente riescono ad arrivare a livelli molto alti dopodiché subentra il declino per i più svariati motivi, a volte anche per via di denunce per abusi sul posto di lavoro o nella loro professione che non sono riusciti a fare insabbiare. Pianificano la loro vita in modo megalomane e scellerato. Riflettono poco e pensano alla grandissima, desiderano tutto nell'immediato senza la pazienza e la costanza di attendere lo sviluppo definitivo degli affari e dei progetti che si impegnano di portare avanti in un primo momento. Usò la metafora del pozzo di petrolio e come se si impegnassero nello scavare un pozzo di petrolio potendo contare solo su una pala che viene condivisa con altri due soci. Capite che è un'impresa immane, sproporzionata per le loro forze, ma ci credono talmente tanto da impiegare tutte le energie nello scavo. A metà strada però subentra la noia, la stanchezza o la pigrizia, le incomprensioni tra i soci, i dubbi sull'effettiva esistenza dell'oro nero in quel preciso punto del deserto e l'impressione di fare una fatica inutile e sprecare la propria vita rincorrendo qualcosa che non c'è. Un soggetto normale va avanti comunque, si autoconvince dalla validità dei suoi sforzi e cerca di sorvolare sull'incomprensione tra i soci perché è sicuro sui dati che ha in mano, avendo pianificato con cura ogni dettaglio dell'impresa. Il narcisista perverso invece cosa fa? Sabota il progetto seminando zizzania tra i soci perché a quel punto ha già partorito un'altra idea ugualmente avvincente. La maggior parte dei narcisisti manipolatori riflette poco sui costi impiegati per mantenere magari una famiglia, gli amanti e le gite, le spese dei ristoranti, alberghi e viaggi. Questo perché non hanno abbastanza responsabilità per equilibrare piacere e vita professionale. La mancata costanza fa sì che il loro successo professionale raramente si mantenga nel tempo ed è nell'apice del fallimento e della frustrazione che il narcisista psicopatico maligno cerca disperatamente l'evasione attraverso le donne, il corpo delle donne. E' così disposto a sferperare ciò che non ha pur di ottenere tali corpi a pagamento che marcia allegramente verso il fallimento. Naufraga nei conti rosso verso la bancarotta, annega nei prestiti, pretende soldi da amici, parenti e aumenta la morsa dello sfruttamento economico dell'eventuale compagna di vita, fin troppo accondiscendente, parassitandola fino ad intaccare il personale patrimonio di lei. Ci sono certamente soggetti narcisisti manipolatori che non raggiungono mai l'apice della carriera, riconosciuti per loro per lo più per la loro parsimonia o l'avarizia che per la loro generosità. Buona parte però, pur di fare il colpo sulla nuova preda, non va da spese. Sfrutta economicamente le altre donne nel suo giro pur di risparmiare i soldi necessari per impressionare la nuova. Che ci crediate o meno, i narcisisti perversi sono predatori compulsivi quotidiani nella conquista di rapporti affettivi, essendo ossessionati dall'idea di portarsi a letto il maggior numero possibile di donne. Ci sono due spiegazioni possibili per questo tipo di comportamento sessualmente bulimico. Il primo è che si tratterebbe di una forma per aggredire le donne restando impunite, una sorta di vendetta subconscia. I soggetti narcisisti perversi sarebbero consapevoli della propria inadeguatezza nei confronti delle donne. Tanto è vero che raramente le loro fantasie sessuali includono donne normali, con dei comportamenti reali. Ecco perché molti narcisisti, manipolatori, psicopatici si lasciano desiderare sessualmente. Quando la scissione tra la donna di carne e ossa che hanno di fronte e le immagini della propria fantasia è totale, i problemi direttivi sono sempre in agguato. La soluzione non è affatto semplice, poiché le fantasie sessuali del soggetto narcisista manipolatore psicopatico vanno a braccetto con il suo carattere perverso. La bellezza della donna conta ben poco in questi momenti perché a prescindere dalla partner un soggetto narcisista manipolatore psicopatico fa sesso esclusivamente con se stesso. Questo perché è quasi sempre frustrato con le dimensioni del suo pene oppure per la sua erezione concentrandosi su questi due particolari. La seconda spiegazione sta nel soddisfacimento dell'ego. I narcisisti perversi maligni si sentono vincenti quando ingannano le persone simulando un rapporto affettivo. È interessante osservare che nonostante la grande esperienza vantata con le donne a sentire le loro prede arriviamo alla conclusione che raramente hanno avuto a che fare con dei bravi amanti. Questo perché buona parte del tempo trascorso a lettolo passano concentranti su loro stessi, sull'erezione che cercano di mantenere a lungo per una specie di scommessa personale. Per un narcisista perverso l'obiettivo finale di ogni suo rapporto sessuale è sfidare i limiti del suo corpo, liberarsi da un bisogno, assaggiare una nuova preda per sentirsi capaci di conquistarne l'ennesima. La donna conquista è soltanto un dettaglio ma sa dissimulare abbastanza bene. A questo punto posso concludere che quando il narcisista psicopatico perverso penetra la donna egli si sente dominante, sovrano, intriso di potere e quando riesce a farlo senza nessun tipo di precauzione alza il suo immaginario trofeo energetico. È la dimostrazione di aver ottenuto la totale fiducia della malcapitata ed è ironico constatare che tali soggetti che oscillano dalla mancata bravura a letto al ridicolo atteggiamento meccanico da porno star abbiano tante donne disposte a lottare fra di loro pur di averne o conservare uno pseudo rapporto amoroso. Cosa si scatena nella mente di queste donne? Questa è una domanda interessante e per risposta terrei a dire che sono due gli elementi fondamentali da prendere in considerazione. Anche se vampirizzano l'energia sessuale altrui, a volte senza riuscire a soddisfare il loro partner, i soggetti narcisisti psicopatici sanno trascinarle dove vogliono grazie ai meccanismi della seduzione. Il secondo aspetto è che hanno l'accortezza di scegliere donne che non sono alla ricerca del sesso tanto per, ma di un uomo da amare e i narcisisti psicopatici sanno vendere molto bene l'illusione dell'amore. Non sono donne che credono di aver trovato l'amore vero, duro e puro. Solo così il sesso diventa un elemento secondario, perde l'importanza nei confronti dell'immensità dell'amore promesso da questi individui. Ossia, molte delle prede semplicemente tollerano la loro condotta sessuale, la superficialità nei modi e la sbrigatività nella speranza che la loro sopportazione serve a salvaguardare un bene maggiore. L'amore. Le donne opportuniste, menefreghiste, fredde o sprovviste di empatia non interessano al narcisista psicopatico, troppo preso da se stesse per riverirla. Molte prede riferiscono di essere rimaste legate a queste persone per anni non per ciò che accadeva durante l'atto sessuale, ma per l'emozione di sentirsi in intimità con la persona che credevano di amare, oppure per l'attrazione che fisicamente provavano per loro. I narcisisti manipolatori maligni sono grandi esperti nei meccanismi della manipolazione, delle virtù e dei difetti delle persone, usando il sesso come manipolazione. Spero di esserti stata d'aiuto con questo video e mi auguro di ritrovarti qui domani con un nuovo video. Se hai avuto esperienze con un narcisista psicopatico o se hai dei dubbi a riguardo della tua relazione oppure vuoi trovare la forza per rinascere, ricorda che non sei sola, non sei solo e che ti posso aiutare a superare le conseguenze di queste relazioni tossiche. Ti invito a unirti alla nostra comunità e a contattarmi se hai bisogno di condividere la tua esperienza oppure per un consulto privato scrivimi a paolafendi.gmail.com. Ci vediamo domani in un nuovo video.